Un caro saluto da Maria Giuliaci, il tempo previsto per domenica 23 maggio. Ancora fresche e inistabili correnti atlantiche sul nord Italia, mentre al centro-sud si allunga l'anticicolone nord-africano per da luogo alla prima vera ondata di caldo, anche se durerà appena tre giorni. Ecco allora il tempo previsto, nubi al centro-nord, cielo velato al sud, rovesci qua e là sul nord Italia per lo più al pomeriggio, ma lontano dalle coste. Al mattino invece debole piogge intermittenti su Toscana, Umbria e Lazio per l'arrivo di una intensa perturbazione dalla Spagna, la quale darà luogo. Poi lunedì a rovesci diffusi su quasi tutto il centro-nord. Per quanto riguarda le temperature, queste avranno valore tra 27 e 32 gradi, con punti di 33 sulla Puglia, sul Materano, Catanzarese e Isole Maggiore, 24-26 gradi sull'Emilia, sulla Romagna, 18-22 sul resto dell'Italia.